ragazzi buongiorno come promesso dopo la volta scorsa siamo tornati sono passati passato qualche giorno dopo dopo ciò che è stata anche la pioggia il terreno è umido con questo sole tutto promette bene appena entrati abbiamo trovato questo questo bocciotto che è leggermente mangiato ma comunque un bel fungo e poco più in alto lo vediamo l'altro più piccolino lo prendiamo bello anche questo ripeto già la volta scorsa era il terreno era molto bagnato quindi prometteva bene il raccolto è andato bene c'è stata la pioggia qualche giorno fa due giorni fa per esattezza e tutto questo fa ben sperare ci vediamo dopo riaccoci ragazzi due metri più in giù abbiamo trovato quei due ora troviamo questo nel mentre abbiamo trovato un altro non sono sia questo troppo in ho trovato non è bellissimo non quello che non ho filmato però andiamo avanti un po mangiato questo però bene tutto fa ben sperare andiamo avanti ragazzi che funghi anche oggi guardate che spettacolo questo e poco più in su questo che è bello ragazzi che è bello ci siamo stati l'ultima volta qualche giorno fa con questa pioggia che c'è stata con questo terreno questo terreno umido con questo caldo i funghi secondo me stanno venendo fuori devono venire tuttora fuori intanto godiamoci questi ragazzi guardate che spettacolo di funghi che belli andiamo a giusto tempo di spostarci e c'è anche questo sotto l'albero anche questo molto bello questo non l'ho trovato io oggi siamo in compagnia prendiamo anche questo bello anche questo un po mangiato molto bello andi ragazzi sta succedendo esattamente come la volta scorsa guardate che fungo che meraviglia poco più in su troviamo questo boccettino bello e questo qua che ce lo lasciamo che è tutto mangiato e distrutto dalla grandine di questi giorni prendiamo questi due che valli ragazzi anche questa volta che valli mettiamo dentro andiamo a prendere l'altro guardate che spettacolo che spettacolo questo bellissimo ragazzi che va ai funghi che belli eccoli qua andiamo avanti ragazzi altro ritrovamento un po più piccolino ma che belli un belli statino che belli ragazzi che belli ho trovato un altro elemento piccolino che non sono riuscito a fermare perché era una posizione un'ottimale ma andiamo avanti molto belli guardate che bello tutti i fonghi di nuove nascite tutto fa ben promettere ragazzi il terreno è ottimale e dire ragazzi meravigliosi sono veramente veramente molto contento lì ebbe dove abbiamo trovato quell'altro e qua c'è il fratellino nel frattempo c'è giù la mia ragazza che mi sta chiamando che ho trovato un altro grosso ora se non l'ha già raccolto andiamo a vederlo guardate che belli eccolo qua ragazzi non è il fungo più bello ma quando si trovano così sono sempre soddisfazioni che bella padella eccoci di nuovo ragazzi qua siamo quasi sotto strada e questo è il primo questo è il secondo e lassù c'è il terzo che è il più bello di tutti ora li raccogliamo comunque è molto bene anche oggi ragazzi la situazione è molto buona ci sono tante nuove nascite il terreno è molto molto bagnato ci vorrà anche qualche giorno per la crescita dei nuovi funghi ma tutto fa ben sperare questo qua ragazzi è meraviglioso tac mangiato molto bello ora andiamo a raccogliere il terzo allora ragazzi esattamente qua abbiamo preso quello grosso saliamo su e guardiate cosa c'è qua ragazzi vorrei farvi vedere lì dove c'è più chiaro c'è la strada un po' più mangiato ma continuiamo nel mentre io stavo registrando e raccogliendo questo guardate che cosa ha trovato mamma mia che fungo che spettacolo ragazzi che fungo più bello della giornata guardate che meraviglia che spettacolo questo sano perfetto meraviglioso andiamo avanti questo è il sentiero se lo vedete se si capisce che porta la strada lì esattamente lì c'è la strada questo spostandoci poco più avanti eccoci qua anche oggi incredibile anche oggi incredibile molto soddisfatto raccogliamo questo e continuiamo la nostra ricerca questo qua è molto bello ragazzi molto molto bello sentite che scrocchio che bello sanissimo abbiamo preso il sentiero ragazzi abbiamo cambiato sponda appena siamo arrivati questa meraviglia guardate che bocciotto il gambo è un po' è un po' mollo ma che bello ragazzi ma che funghi che funghi ragazzi oggi il funghi è meraviglioso guardate questo abbiamo trovato questi due gambi mangiati qua a fianco raccogliamo questo guardate 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 che meraviglia più avanti spettacolari ragazzi che funghi guardate là c'è anche un altro mangiato che ce lo lasciamo non so se si riesce a capire che marcio ma che funghi che funghi guardate meraviglia ragazzi aggiornamento funghi spettacolari guardate che roba che roba ma che belli che belli questi statini chiamarli statini poi andiamo avanti ragazzi questo è l'ultimo vedete lì c'è la strada lì c'è la macchina questo qua è l'ultimo di questo boschetto ora valutiamo se spostarci da un'altra parte comunque ancora molte soddisfazioni questo bosco abbiamo trovato anche oggi parecchi funghi molto belli e tutto fa ben sperare anche questo qua comunque un bel fungo andiamo avanti ragazzi ho passato la cesta in macchina poi la mia ragazza mi chiama che ha trovato questa a bordo strada scendiamo questa quest'altra boccetta una e due spettacolo che dire anche oggi ragazzi il bosco sta ripagando ragazzi siamo letteralmente a bordo strada lì sopra c'è la strada ora non si vede questi due appena trovati lì sopra ecco c'è quest'altra boccettina è incredibile come stanno nascendo i fundi ragazzi meravigliosi alla prossima alla prossima per la prossima